Radio Fanda Tutto il mondo in un click Questo pensiero bellissimo Guardate che meraviglia Eccola qua La maglietta di Dimash E vi faccio vedere il retro Che è così Bellissima Oltretutto della mia taglia Molto bella Ma non finisce qua Perché insieme a questa maglietta E' arrivata anche la shopping bag Eccola qua Dove da una parte C'è il magnifico Dimash E voilà Dall'altra parte Si vede? Eccola qua Ma se pensate che le sorprese Siano finite qua Sbagliate Perché insieme a questo E' arrivata anche questa Magnifica spilla Che vi faccio vedere Eccola Ma le sorprese Non sono ancora finite Perché insieme a tutto ciò E' arrivata questa meraviglia Guardate Mi riconoscete? Beh io penso proprio di sì Il maestro Marat Altimov Che abbiamo avuto anche Il grande piacere Sempre In particolar modo Grazie al Fans Club Di avere ospite qui in studio Con una diretta telefonica E ci ha rilasciato Questa intervista bellissima Quindi Grazie a tutto il Fans Club E un abbraccio grandissimo Alla nostra Deanna Che oltretutto Mi ha scritto Una lettera Magnifica Che vorrei condividere Con tutti voi Quindi io appoggio questa foto E passo a leggervi questa lettera La lettera dice così Cara Patrizia Avevo in mente di farti Un mio piccolo pensiero personale Subito dopo che ti abbiamo conosciuto Con la tua radiovanda A fine aprile Ho dovuto aspettare Fino ad adesso Perché mi è stata consegnata Solo ora Mentre ero in Kazakistan Dato che ho conosciuto Personalmente Il maestro Marat Ai Timov Pensa a quanto ha viaggiato Nasce in Croazia Va da Stana Domani viene da te A Casale Monferrato Grazie per quanto fai Per Dimash E la sua musica E sono anche molto contenta Per l'aumento Dei vostri ascoltatori italiani E da tutto il mondo Con affetto Deanna Ziarz Un abbraccio Deanna Grazie Grazie mille Un pensiero molto gradito E un ricordo Che porterò sempre con me Grazie mille Radio Fanda Fanda Real Tutto il mondo In un click